Linee telefoniche occupate e liste di attesa che si allungano. Poter fare il vaccino contro la meningite è diventato un vero e proprio calvario, così prende sempre più piede l'idea di replicare il cosiddetto vaccino dei. Cosa significa? Avere aperti per un giorno intero senza bisogno di prenotazione ambulatori dove effettuare il vaccino con medici e infermieri. La città di Pistoia aveva già sperimentato questo modello sanitario la scorsa settimana con notevole successo, tanto da volerlo riproporre sabato 27 febbraio. L'idea è quella di andare anche nelle scuole medie e superiori, anche se il vaccino a scuola convince poco a causa dei minori che necessitano comunque dell'autorizzazione dei genitori. A Pisa si studia un piano per le vaccinazioni all'interno degli Atenei. A seguire questo filone anche l'ASL di Firenze, che oltre la Casa della Salute di Scandicci sta valutando altre strutture dove poter ospitare cittadini per effettuare le vaccinazioni e per smaltire il lavoro di centralini e farmacie. Adesso le prenotazioni potranno essere fatte anche in associazioni di volontariato. A Prato le aperture settimanali degli ambulatori passeranno da 25 a 206 ore. C'è anche la novità di un nuovo numero 855 60 60, messo a disposizione dalla Regione e che collega a tutte le ASL. L'idea è quella di poter vaccinare tutta la popolazione toscana entro 5 mesi.